Mister Monteforte-Ligorna è arrivata a una vittoria importante oggi. Importantissima, difficile. Sul campo devo fare complimenti a loro, agli avversari, perché hanno fatto una partita a Gagliarda, su un campo difficile, perché non è facile giocare, ma grandi meriti degli avversari che ci hanno creato delle difficoltà. Adesso gli impegnieri avvicinati o c'è la palla? Adesso giochiamo mercoledì con la Sestrese, poi riposo e l'ultima a Baiardo. Insomma, gli obiettivi sono chiari per il Ligorna, fare più punti possibili? Non ci siamo mai nascosti, credo che siamo una squadra che deve fare risultato, deve provare a fare risultato dappertutto, fino ad ora ci stiamo riuscendo, bravissimi i miei ragazzi che oggi era una partita da sporcarsi un po' le mani e l'hanno fatto bene, non sappiamo solo giocare a calcio, ma sappiamo anche combattere e questo mi fa molto molto piacere, perché se facevamo un po' i superficiali oggi probabilmente non vincevamo. Da portiere quasi, ultima considerazione, sul vostro portiere giovane ha dato molta sicurezza nonostante l'età. Per me non è una novità, l'ho fatto esordire l'anno scorso, un 2003, quindi immagina quanta fiducia ho, tra l'altro è un ragazzo che sta crescendo in maniera esponenziale, perché è proprio bravo, forte, personalità, ma così come Salvini che è un altro 2003 che ha giocato titolare. Grazie, grazie a te.